Ciao a tutti, vi raccontiamo quello che è successo oggi. Oggi il Consiglio sarebbe dovuto durare dalle 10 alle 14. Questo era l'accordo preso nella precedente Capigruppo. Troverete pure la convocazione che prevede appunto questo sul CEO del Consiglio, l'abbiamo pubblicato anche sui nostri profili. La maggioranza invece che ha fatto? A Consiglio in corso ha stabilito, violentando praticamente le regole della democrazia e gli accordi presi nella Capigruppo, di far durare il Consiglio a oltranza. Pacta su un servanda, dicevano gli antichi romani, i patti invece non fanno per questa maggioranza il PD che li disattende e fa in aula quello che vuole sostanzialmente. A questo punto chiediamo a voi quello che dobbiamo fare, se dobbiamo rimanere in aula fino alle 2 di notte, guardando in faccia sui banchi questa maggioranza fin tanto che non approverà a notte fonda questo provvedimento indegno svendi patrimonio, oppure abbandonare l'aula, andarcene sul nostro Aventino e lasciarli da soli sui banchi a prendersi la responsabilità di un provvedimento che svende i beni immobili di noi cittadini romani.